Il palapinto è pieno, non l'avevamo mai visto per nessuna manifestazione sportiva. Abbiamo divulgato bene. Sì, diciamo che Gara 1 è andata bene, è stata una gara sofferta, avevamo un vantaggio di 18 punti, loro hanno recuperato, sono una squadra che non muore mai, non per niente è una delle due finaliste di questo campionato. Noi abbiamo portato a complimento il nostro sogno, i ragazzi adesso hanno portato a casa Gara 1, o mercoledì andiamo a Pozzuoli. Com'è mercoledì, non è giovedì? No, no, mercoledì è la squadra di casa che può decidere, Pozzuoli è un gioco di mercoledì e noi mercoledì sera alle 20 saremo lì, speriamo anche in modo nutrito, speriamo che tanti appassionati possano seguirci perché i ragazzi hanno bisogno del nostro sostegno, Pozzuoli è un campo caldo ma corretto, per tanto stare vicino alla squadra e farli sentire protetti è molto importante. Permette. E' possibile nascondere che noi speriamo di chiudere 2-0 e domenica prossima di poter fare una grande festa. Permesso che Pozzuoli sta su Fialore, di Pozzuoli quindi... E' vero, è vero, il paese di Fialore è che sarà premiata quest'anno a Cannes, noi speriamo insomma di poter concludere mercoledì, pertanto due giorni di preparazione, il nostro coach metterà a punto degli accorgimenti per evitare dei cali come quello che fra il terzo e il quarto quarto hanno permesso a Pozzuoli di riattaccarsi e poi che vinca il migliore, speriamo che il migliore sia il Mola. Grazie.